Benvenuti in questa nuova puntata del podcast Fatturare, Fatturare, Fatturare. Oggi qua con noi abbiamo un volto femminile, ovvero Sara Robbiati. Benvenuta! Grazie Alberto, sono molto emozionata per due motivi. Uno perché, insomma, ti ho visto un po' crescere a casa nostra e poi vi reputo veramente neanche amici, proprio della famiglia. Quindi per me è veramente un'emozione forte, davvero. E sono contento, sono contento. Oggi entriamo un po' anche nella tua storia, no? Perché io ti ho conosciuto, ma è diversi anni che ci frequentiamo, ancora quando veniva forte, ancora all'inizio, eccetera. Però non conosco, e quindi è anche un modo per me, per conoscerti meglio, il percorso di Sara Robbiati, dell'imprenditrice di oggi, di tutto ciò che in realtà fai oggi, e anche tutti i percorsi, diciamo, anche molto spirituali, se così vogliamo dire. È vero, è vero. E quindi mi affascina molto questo. Non intervistiamo tante donne, quindi è anche un onore per noi avere un volto femminile. Quindi io direi di partire da come, diciamo, inizia un po' tutto il percorso, da dove vieni, raccontaci un po'. Da dove sono nata. Esatto. Allora, io sono nata in un paesino fuori Milano, vicino a Saronno, Caronno Pertusella. Caronno Pertusella. Sì, e la mia famiglia è una famiglia di imprenditori. Mio nonno e mia nonna hanno fondato l'azienda di famiglia, un'azienda dove venivano create cornici, cornici per quadri, specchiere, eccetera, e quindi sono cresciuta lì dentro, praticamente, tra casa e la fabbrichetta, come si diceva. Adesso un po' meno, perché è tutto digital, ma una volta era la fabbrichetta, dietro casa, praticamente, dove c'erano i miei nonni, dove lavorava mio papà, il mio fratello maggiore, l'altro ha preso altre strade, però si viveva lì e poi gli amici erano tutti quelli del quartierino, dell'oratorio del quartierino e quindi un po' fuori dalla realtà milanese. Molto piccola, ma molto profonda, molto profonda di valori e questa cosa me la sono portata dietro per tutta la vita, anzi, devo dire che ogni volta uno di questi valori è come un po' il popcorn che in determinate situazioni esplode e mi dà la direzione giusta, quindi sento molto il legame proprio con la mia famiglia d'origine e quindi sono nata lì, la mia vita è imprenditoriale, ho sempre visto solo quello, non ho visto altre realtà, se non per una decisione un po' fuori di testa all'età di 27-28 anni che dopo la mia esperienza lavorativa in azienda, perché poi io ho perso il papà molto giovane, avevo 20 anni e quindi mentre studiavo e mi laureavo aiutavo la famiglia nell'azienda e quindi a un certo punto non so perché, per cosa e per come decido di fare l'esperienza della busta paga e quindi, mio papà era già morto, a mio fratello dico, bene, adesso che ho ben chiaro la realtà imprenditoriale, io vorrei capire, perché ho sempre avuto un po' il pallino della crescita personale o comunque della curiosità del capire le persone e quindi ho voluto proprio prendere un anno sabatico lontano dalla mia azienda e fare un'esperienza come responsabile marketing estero, perché comunque nel mio percorso ho studiato lingue e quindi ho lavorato per un'azienda che non c'entra niente con me, metalmeccanica. Non la sapevi questa? Non la sapevi? Sì, e quindi io insomma viaggiavo perché principalmente si lavorava con la Germania e quindi entravo proprio nella, dove venivano create le macchine, perché alla fine era quello. Però io venendo già da una realtà di produzione, tutto quello che mi affascina ancora oggi, più del digital veramente, è dove vengono create da cose piccole, cose enormi, che però cambiano la storia dell'umanità. E questa cosa me la porto dietro da quando sono piccola, capito? Fantastico. E come che sei venuta? Cioè, qual è il passaggio che hai fatto? Cioè, non ti sei dovuta trasferire? Tu lavoravi comunque qua a Milano? No, 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 no. Allora, cos'è successo? Che praticamente noi, dopo la parte della fabbrichetta, abbiamo creato anche due negozi di vendita al dettaglio. Quindi avevamo un negozio in Foro Bonaparte e un altro a Lugano. Quindi io lavoravo con il pubblico e anche lì mi è sempre piaciuto, perché commercialmente, anche quando consiglia alle persone un po' che cornice mettere a un quadro, diventa qualcosa dove tu entri un po' nella, cioè portando bellezza alle famiglie, che guardando a casa quando tornano li fai sentire bene se scegli la cornice giusta. Quindi ho sempre avuto un po' quel trip del portare bellezza alle persone e al mondo, perché per me è importante. E l'ho imparato come valore, devo dire, dalla mia famiglia, perché sono sempre stati degli imprenditori, però soprattutto mio papà, illuminato, devo dire, illuminato forte, tanto. E anche se l'ho perso nel momento probabilmente di crescita nel diventare un'adulta, quello che mi sono portata dietro nell'infanzia e nell'adolescenza probabilmente poi è stato un percorso che mi ha portato a chi sono oggi. Che non è, diciamo, la situazione normale, solitamente difficile, diciamo, nascere in una famiglia di imprenditori, soprattutto in Italia, dove magari sono piccoli imprenditorini, magari che sono più liberi professionisti. Quindi se comunque è nato in una famiglia... Sì, e devo dire che, per dirti, allora già mio papà ha portato le cornici da Erroz, per cui, cioè, vedeva qualcosa al di là del semplice paesello. E questa mentalità mi è rimasta del faccio il sacrificio per creare qualcosa che poi duri nel tempo. E anche il fatto, devo dire, noi siamo i tre fratelli, ha sempre fatto qualcosa, è sempre passato dal mio nonno o dai miei nonni o anche appunto dalla mia famiglia, del faccio il sacrificio comunque per permettere ai miei figli di stare bene. E anche questa cosa, nella mia vita come mamma, me la sono portata. Cioè, che non è facile, perché è importante dare, ma far capire anche il valore del sacrificio, del denaro, soprattutto in una società dove oggi si perde sempre di più questa cosa, no? Perché giustamente l'evoluzione fa sì che si possa fare denaro molto velocemente rispetto magari agli anni 80, 90, eccetera. però, ecco, questa cosa del, non so come dirti, il valore e la bellezza del denaro che crea emozioni e bellezza alle persone, alla vita, questa cosa cerco di trasmetterla ogni giorno. È difficilissimo, perché comunque lotti contro una microwave economy, no? Però sono proprio le mie radici e questa cosa tutti i giorni cerco in un modo o nell'altro di riuscire a trasmetterla, insomma, alla mia famiglia o anche alle persone magari in difficoltà o semplicemente ad amici, portando chi sono, ecco. Nel bene e nel male, chiaramente. Hai un buon rapporto con i tuoi fratelli? Sì, molto, molto. Non ci si vede spesso, però io so che ci sono qualsiasi, cioè tutti e tre sappiamo che ci siamo, qualsiasi cosa, magari ci mandiamo a quel paese, no? Perché comunque ci sono tanti anni di differenza, col maggiore o sedici anni e con l'altro o quattordici anni. Però sappiamo che ci siamo. Ci siamo per mia mamma, che è rimasta sola tanti anni fa, e ci siamo per noi. Quindi qualsiasi difficoltà, ma anche le cose più piccole, le cose più grosse, io so che posso contare su di loro e come so che possono contare i miei figli su di loro. E questo mi rasserena tanto. Bello. E quindi che cosa succede? Dopo quell'esperienza lì, diciamo, con cui lavoravi come responsabile marketing, quali sono i passaggi? Poi conosco la PNL. Sì, perché come ti dicevo, sono sempre stata molto curiosa dell'evoluzione della mente. E quindi vado a fare un evento che tra l'altro io ho preso il, tra virgolette, ho fatto il Master in Economia Zondale più avanti, dopo la laurea. E facendo il serale, il mio professore di economia, praticamente, era il mio miglior amico del mio compagno di vita. E l'ho conosciuto così. Quindi vado a questo evento, tantissimi anni fa, ma ti parlo del 2005, è una cosa tantissimi anni fa, vado a questo evento di PNL e l'inizio a studiare. Inizio a studiare come oggettivamente la mente può aiutare a realizzare i propri sogni. Cose che non bastano. Cioè, io ero tutto estinto, capito? Per cui facevo le cose e funzionava, ma probabilmente da un approccio derivato da un intuito familiare. Quindi quando diciamo che la storia familiare oggettivamente impatta sulla vita non solo momentanea, ma anche del futuro, alla fine per me, io l'ho vissuta su di me questa cosa. Però non sapevo come funzionava tecnicamente. Per me era veramente tutto istinto. Quindi inizio a studiare la PNL, quindi la programmazione neurolinguistica, e come puoi crearti il tuo futuro grazie comunque alla gestione mentale. e quindi poi inizio continuando a fare l'attività comunque della mia azienda, perché allora avevo appunto il negozio in Foro Buonaparte, inizio un po' a andare avanti in diversi settori della mia vita, perché dopo quell'anno ho deciso comunque di ritornare a fare impresa. Ma è stato interessante, è stato interessante e una cosa che mi ha fatto, io sono sempre stata una persona umile, però devo dire che in quell'anno ho imparato ancora di più e ho capito ancora di più come si comportava mio papà nei confronti dei suoi dipendenti. Cioè lui è sempre stato molto rispettoso e in quella situazione l'ho vissuta poco, non tanto nei miei confronti, perché comunque era in una posizione importante, quanto nella gestione magari dei capi sugli operai, su persone che erano comunque manuali. E caspita, l'ho vista proprio la differenza. Ho visto proprio una differenza nel, non perché era mio papà, ma proprio la gestione probabilmente che lui aveva di fare impresa, che era del siamo tutti una famiglia, quindi aiutatemi a fare questa cosa, perché se ho successo io e la mia famiglia abbiamo successo tutti. Che è un po' il concetto che ho ritrovato. Domenica sono stata a una bellissima esperienza, a un evento su gli Emirati Arabi, su Dubai, e l'hanno fatto da una mia carissima amica, e l'hanno fatto al Museo Lamborghini. Bello. E ho incontrato, ha fatto uno speech, Tonino Lamborghini. A parte il fatto che per me è stato come un déjà vu, tra virgolette, perché sono ritornata in questa azienda, nel concetto azienda, dove le cose vengono create, e la tradizione familiare. Mi sono subito sentita in linea con questa cosa, perché lui raccontava, tra l'altro, aneddoti con Ferrari, è stato interessantissimo, perché il pezzo del film non è proprio così come... Perché nel film viene raccontata... Nel film viene raccontata comunque dello screzio tra Frerruccio, Lamborghini e Ferrari, però lui ci ha detto un po' di news sotto banco, quindi è stato molto interessante. Però ecco, lì ho rivissuto, non so come dirti, l'onore, la fierezza, del far parte di qualcosa che ha creato la storia, cioè molto più in piccolo nella mia famiglia, però il concetto del mio cognome, comunque, dell'onore, della fierezza, del fare qualcosa veramente di bello, non solo che ti dicevo, non solamente per me e per i miei figli, parlando di mio papà, e del creare ricchezza per noi, un benessere, ma proprio stiamo bene noi, state bene voi. E questa cosa l'ho ritrovata nello speech poi di Tonino Lamborghini, ma traspariva anche l'energia dalle mura, questa di stabilità, di fierezza, di onore, bellissimo. Puntata bella e interessante. Sappi che c'è anche un'altra cosa interessante, che è il mio nuovo libro, Accelerare il fatturato. Se ti piace la formazione per la tua azienda e per farla crescere, vai su accelerarefatturato.com e prendi la tua copia. E mi ha ricordato da dove sono venuta, mi ha ricordato questa cosa. Ed è una leadership un po' persa nel tempo, perché soprattutto già magari negli anni in cui mi raccontavi tu di tuo papà, sono epoche in cui era più facile essere il capo, boss, e tu sei il mio collaboratore dipendente, fai quello che dico io, non ti ascolto, cioè tu devi fare, eccetera, già avere una mentalità del siamo una famiglia, una squadra, se io vado bene, l'azienda va bene, tutti andiamo bene, cioè è già una cosa molto futuristica. Certo, assolutamente. Quindi io sono cresciuta respirando queste cose, per cui quando poi nel mio percorso ho trovato tutte queste, tra virgolette, connotazioni scientifiche nella PNL, e poi ho agganciato, capito, tutti i vari pezzettini del puzzle, quindi la parte istintiva mia che ti diceva, che comunque faceva le cose per istinto e per valori con la parte scientifica. Quindi ho avuto proprio come se fosse un flash, cioè ho agganciato l'emisfero destro e l'emisfero sinistro del cervello ed è stato molto bello, molto bello avere, insomma, questo tipo di insegnamento perché ti dà tanta stabilità, ti dà tanto equilibrio, ti dà visione nel dire ok, però un po' come la canzone l'ultima che ha vinto X Factor, adesso non mi ricordo la cantante che è bravissima, Sarafine, Sarafine, che nel suo ultimo disco, insomma, quello che poi è stato su tutte le hit, dice, signore e signori, non mi interessa, per tutto rispetto di dove va il mondo e della velocità in cui va il mondo, io resto. È bellissima questa cosa. Cioè, nonostante tutto il mondo si muova a una velocità assurda, per andare avanti giustamente, io resto. Io le mie radici le porto giorno per giorno anche nell'evoluzione, nella velocità del mondo. E questa cosa, capisci, che ti dà concretezza, coerenza. PNL. PNL. Vai a quell'evento, trovi anche il tuo compagno di vita, quali sono gli avvenimenti che ci sono dopo? E gli avvenimenti che ci sono dopo. Intanto ti chiedo se credi fin da subito alla PNL, cioè quando decidi di partecipare, perché sai che molte persone hanno poi... Sì, sì, perché probabilmente il mio percorso che ti dicevo mi ha fatto fare il salto quantico nell'opzione scientifica, no? Quindi l'emozione o comunque l'intuizione poi ha un rispecchio nella parte scientifica. quindi ero già allineata in quella direzione probabilmente, quindi non ho avuto nessun tipo di dubbio, ok? E probabilmente era anche il momento giusto, perché è sempre così, Quando l'allievo è pronto il maestro arriva, per avere certe informazioni. E vado avanti, studio, faccio... Ecco, io sempre più che sperimentare sugli altri, perché comunque io credo di essere brava nel coaching, perché mi immedesimo proprio nel portare le persone a successo. A me piace portare le persone, ripeto, perché l'ho visto, l'ho imparato da piccola, l'ho respirato da piccola, in altre cose, chiaramente, Però era quello il valore grande di famiglia. E quindi sono... Come dire, ok, fulmine al ciel sereno, tutta quella parte lì e poi insieme all'altra parte mi permette di concretizzare il mio intuito. E quindi da subito per me è stato fondamentale e ho iniziato questo percorso. Però ho sempre sperimentato su di me, perché se una cosa funziona su di me, allora posso sicuramente sapere quelle piccole sfumature di bianco, grigio, nero, colorato che possono fare la differenza magari nella strada e magari per aiutare l'altra persona. E poi credo che sia anche una caratteristica in generale poi della donna. La donna piace molto dare questa cosa qua. Cioè, si le scontra... Siccome c'è un buon coach, è una donna, che è un po' il paradosso perché sono abituati a vederne... Allora, sai che io non credo donna e uomo sia la differenza. Io credo che la differenza sia l'egocentrismo e l'egoismo. Ok? Perché se una persona è capace di abbassare il proprio ego e la propria centralità nell'ego, ok? Per cui egocentrico detta proprio come parola specifica, cosa succede? Vuol dire che riusciamo a facilitare il successo degli altri. E quindi un coach fa questo. Un coach in ogni campo che si ha lavoro, che si ha vita privata, che cosa fa? Aiuta gli altri ad arrivare al successo. Poi, chiaro, queste caratteristiche sicuramente quello che ho appreso, studiato, sperimentato, probabilmente col mio intuito mi ha portato ad avere anche successo in un'altra attività che faccio che ho veramente tanto in contatto con le persone, dove il loro successo diventa il mio successo. Esatto. Però vedi che c'è sempre un filo conduttore, perché è ancora questa cosa che è importante per me, dove comunque io ho avuto tanto successo in questa attività, mi ha portato indietro a dove l'ho imparato quando ero bambina con la mia famiglia. Diciamo che un po' la tua infanzia ha caratterizzato tutto ciò che poi fai oggi e ti ritrovi nel mio caso sì. Quindi ripeto, non uomo o donna. Secondo me è proprio questa caratteristica innanzitutto di vedere il bello nell'altra persona anche se ancora non c'è, perché magari ancora non c'è. A volte ci sono anche azioni brutte o cose brutte che vengono dette, fatte, eccetera, però sempre la visione un po' come Frida Kahlo che dice io vedo orizzonti dove tu costruisci confini. Quindi vedere l'orizzonte dove magari oggi c'è il confine ma magari domani, dopodomani, tra dieci anni, cinque anni non ci sarà più quel confine e quindi questo fa la differenza. E il fatto di, ripeto, un'altra frase che mi ha segnato un pochino che ho visto in un film, che ho sentito in un film, non mi ricordo quale, che è diventato uno un po' dei miei must, a qui è tal ego e il tuo potere crescerà. Perché poi non diventa più potere, diventa potenza, potenza personale che non ha niente a che fare con l'egoismo o con il potere. Ecco, parli di ego, no? Io poi lo vedo anche da uomo. l'uomo ha molto l'ego forte, cioè in cosa tu vedi che l'ego diventa un limite, diciamo? Allora, l'ego è un limite, l'ego è sempre un limite. Quando tu saprai trasformare il tuo ego in potenza e non in potere, allora lì si misurerà, cioè si scavalcheranno tutti i confini. Quindi la killer application è, secondo me, non è detto che sia per quanto mi riguarda e per quello in cui credo è quando trasformi l'ego in potenza e allora lì che energia potenza e lì esplode in tutto. Ok, perché tu vedi diciamo l'ego come un qualcosa che, diciamo, perché è egoistico? No, sì, nella mia concezione utilizzo queste due connotazioni, queste due parole. Ego per me è negativo, potenza per me è positivo. Può essere che per te o per un'altra persona invece, non utilizzando la connotazione della parola potenza, vedi un ego positivo e negativo. L'ego, chiaramente, se non vogliamo fare queste due distinzioni tra ego e potenza, possiamo pensare a un ego manipolatorio e un ego invece dove invece è illuminato, un po' come l'imprenditoria, no? Quella che invece affine a se stessa per ottenere risultati solo per sé è quella illuminata dove cresco io, cresci tu, cresce il mondo. Ok, bello, mi piace questo. Può essere? Non è una supercazzola, ci sta, ci sta. Sì, ci sta. Ok, quindi diciamo, intanto com'è che entri in questi discorsi qua? Dopo la PNL in che cosa è che ti appassioni per andare avanti e fare questi discorsi? Ecco, bravissimo. Allora, la PNL è stata una parte importante della mia vita perché mi ha permesso comunque di evolvermi, di crescere tanto. Poi, non so perché, approdo nella fisica quantistica, questo tre o quattro anni fa, dove nella PNL l'emozione è importante, non lo sappiamo, non è che viene solo pensata come cioè che è la mente che fa tutto, benissimo, però si parla sempre di la mente è importante che gestisca le emozioni, ok? Perché così io posso crearmi il mio futuro, posso comunque cercare di acquietare le mie sensazioni negative per andare oltre oppure risolvere magari delle particolari problematiche o fobie o cose così che non mi permettono, mi tengono in stallo. nella fisica quantistica invece ho capito e ho sperimentato su me stessa che in realtà le emozioni non vanno gestite, non vanno controllate perché prima o poi ripeto secondo nel senso quello che ho visto nella mia vita insomma quindi non è per forza così per gli altri ma vanno capite vanno 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 abbracciate vanno superate le devi portare a un livello superiore capito positive e negative e lì allora parli di frequenze di onde di frequenze cerebrali perché scientificamente si è visto che quando hai emozioni elevate che sono quelle nobili quelle dell'amore quella della sincerità quella della sicurezza quella della coerenza crea visioni scusa crea onde celebrali a livello beta e a livello alfa quasi come quelle meditative quindi queste emozioni alte creano onde celebrali coordinate coerenti lineari e questo cosa farà creerà sicuramente pensieri perché sappiamo che la testa comunque crea pensieri pensieri dello stesso tipo quindi equilibrato coerente con un'ondulazione molto cioè non alti e bassi e quindi se abbiamo emozioni di questo tipo pensieri di questo tipo è chiaro che avremo azioni di questo tipo e quindi le azioni di questo tipo porteranno risultati diversi impattanti e non è più uno stato di sopravvivenza che invece viene creato dalle emozioni che vanno su e giù ok anzi si possono creare danni assurdi quando le emozioni vanno su e giù senza allora ecco perché capite no perché a volte li gestisci cerchi di contenerle però prima o poi se continua a metterci il tappo poi esplode come il vaso di Pandora invece se le emozioni le capisci le risolvi le fai crescere e le rendi allora quelle emozioni che dicevamo prima elevate poi arriva tutto quello che poi è un'azione un risultato invece coerente importante per te e per gli altri ecco perché ha senso scientificamente è vero è vero cioè in realtà molte persone vengono limitate perché mi faccio l'esempio di quando io facevo sport o anche ancora oggi magari uno gioca a tennis per esempio effettivamente il controllo delle tue emozioni poi determina anche poi il risultato perché poi a tutti gli effetti se non le controlli non le sai gestire eccetera non riesci a esprimere non riesci a fare la tua performance non riesci a avere il massimo del potenziale che puoi che puoi dare certo però tutto parte da le capisco capisco perché ho quelle emozioni lì sì perché allora passi a un livello successivo perché diventa un momento di crescita non un momento comunque ti tappo un attimo per ottenere il risultato perché poi devi fare i conti con quell'emozione prima o poi cioè perché vado in quello stato lì però spesso e volentieri per esempio prima parlavi dello stato di sopravvivenza in cui magari nella maggior parte dei casi viviamo che può essere momentaneo per forza succede però non può essere tutta la vita quello stato di sopravvivenza e cosa pensi dell'ambiente che ti induce invece a quello stato a vivere quelle emozioni cioè quanto l'ambiente circonda l'ambiente è fondamentale cioè è uno di quelle di quegli ingredienti che devono essere giusti per il successo perché e se non è quell'ambiente che ti porta cioè se è un ambiente che comunque ti crea situazioni demotivanti o che non ti danno carica che non ti aiutano che non ti fanno avere questo tipo di emozione elevato allora devi cercare il modo per trascendere quell'ambiente e trascendere vuol dire cercare qualcuno qualcosa cambiarlo non siamo alberi non abbiamo le radici per forza che dobbiamo stare nella passate scusate nella merda quindi va bene essere nella merda magari perché in quel momento ci dobbiamo stare per andare a un livello successivo però è importante capire perché sono nella merda perché se no succede che prima o poi l'universo prima guardavo appunto questa cosa che dicevo sono due nomi importanti per me perché ci sono momenti Kensho che sono quelli che non ascolto la mia anima non ascolto queste emozioni continuo per la mia strada pensando che prima o poi si discioglie tutto ma poi l'universo almeno secondo quello che credo io l'universo ti mette talmente un blocco doloroso in qualsiasi situazione che lo superi o lo superi altrimenti sarai sempre lì sarai sempre lì e magari tu pensi che in quel momento tu hai successo e pensi di essere felice anche no? però quello che l'universo ti vuol far capire è ma se tu superassi questa cosa quanto ancora più felice potresti essere quanto ancora più successo potresti fare se risolvessi questa cosa no? e quindi perché a volte la maggior parte delle persone crede che le cose succedono per sfiga e non è così ecco questo è un discorso interessante non è così le cose ce le creiamo noi perché non ci ascoltiamo perché non ascoltiamo quelle emozioni perché le gestiamo solo con la testa cioè tu dici ci sono tanti eventi che magari capitano nella nostra vita che noi le chiamiamo sfiga sono stato sfortunato eccetera quando in realtà le dovremmo leggere da un punto di vista diverso? assolutamente le dovremmo dovremmo capire perché quella cosa è successa e a un certo punto capire che se io la supero se io capisco qual è la lezione per me che non è per forza magari apparentemente potrebbe essere negativa e brutta ma che cosa posso ricavarne per crescere da questa cosa la posso far diventare il momento più fortunato della mia vita e beh e tante persone se io immagino tante persone di successo che sono riuscite a leggere in modo diverso tanti loro fallimenti effettivamente sono stati dei momenti di rinascita assolutamente tu hai qualche momento in cui dici ho letto in modo diverso un evento e quella roba lì è stata un game changer magari importante allora sì uno quando è morto mio papà perché il primo anno sono rimasta con mia mamma in azienda ok però io capivo che quel peso della morte di mio dopo ho capito che quel peso della morte di mio papà non era semplicemente perché lui non c'era più ma perché io ero stata costretta da me non da nessuno a prendere decisioni per fare felice qualcun altro per cui mia mamma perché ha sofferto tantissimo figurati poi si sono sposati a vent'anni mio papà è morto a 64 capirai poi così dall'oggi al domani e quindi lei aveva proprio bisogno del mio supporto e e anche l'azienda alla fine poi infatti dopo io ho preso una direzione totalmente diversa per cui adesso abbiamo un'azienda a reddito degli spazi in affitto però mio fratello fa consulente sempre nelle cornici eccetera fa qualche cosina perché ormai insomma è in pensione è stata venduta oppure no 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 è stata chiusa e basta e abbiamo messo tutti gli spazi a reddito di cui poi io ho preso ormai sono amministratore unico ho preso anche ho comprato le quote di mio fratello quindi questo ti dico e quindi mi sembrava di far rivivere un po' mio papà perché ero molto legata a lui e quindi avevo deciso di rimanere lì ok a un certo punto prima ancora di conoscere la PNL a un certo punto a 20 5 anni decido così dall'oggi al domani cioè proprio così vado in agenzia e prendo un biglietto per l'Australia e mi scrivo a uno dei percorsi perché poi non ho mai cioè a me è sempre piaciuto viaggiare però decido praticamente di iscrivermi a quei percorsi IF ti ricordi ci sono ancora insomma quindi parto ma da lì un mese mia mamma tragedia assurda ma per ormai stava bene erano passati comunque un po' di anni e quindi mi prendo questo anno sabato vendo la macchina che mi ha regalato mio papà perché comunque volevo fare in modo che questo regalo non fosse una cosa solo meccanica diventasse un investimento sì diventasse parte di un ricordo di vita per me no e quindi insomma vendo la macchina compro questo biglietto faccio tutto vado parto e sto via un anno e questa cosa mi ha mi ha dato tanto perché comunque alla fine questa cosa negativa no perché si perde una persona cara eccetera mi ha portato a non evoluzione e se non l'avessi fatto probabilmente non sarei adesso la persona che sono quindi mi ha creato un'evoluzione importante impattante nella mia vita questo uno uno dei tali secondo me anche quello quando ho fatto la mattata di diventare dipendente perché anche lì ho capito tante cose tante tante sfumature dell'imprenditorialità dall'altra parte perché se no non si capisce non si capiscono le difficoltà no comunque il rapporto a livello magari di rapporto col col proprio boss o cose di questo genere no ci sono tante cose che per esempio a me magari non piace fare più di tanto però sono nuove esperienze no e nella mia testa dico sempre tanto non è una cosa che tu dovrai fare per tutta la vita però può essere che fatta anche solo per un certo periodo poi ti lascia qualcosa quindi nella mia testa anche quando faccio qualcosa che non è che ho tutta questa voglia di farlo però fai quell'esperienza in più che allora dici è un bagaglio in più che ti puoi portare dietro è una cosa che in qualche modo ha un impatto ha un impatto perché comunque ancora oggi che sono un'imprenditrice se devo prendere una decisione non la guardo solo dal mio punto di vista perché ho quell'esperienza che comunque ho fatto dall'altra parte e quindi nell'evoluzione del cammino del successo del portare magari un'idea al successo la guardo da entrambi le posizioni e non avrei fatto se non avessi fatto questa esperienza giusto o sbagliato non lo so però chi sono io oggi sicuramente esatto hai parlato prima che ti piaceva ti sarebbe piaciuto viaggiare mi è sempre piaciuto viaggiare però diciamo che oggi comunque vivi una vita dove comunque viaggi molto in generale per la tua attività per quello che gestisci eccetera pensi di avresti fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che stai facendo oggi eccetera che cosa che fai con la tua diciamo riformula la domanda nel senso sei una persona che ti piace viaggiare quindi diciamo che hai sempre detto che avresti voluto viaggiare comunque nella tua vita avresti fatto come che diciamo bilanci o comunque gestisci i viaggi con la vita che fai comunque anche con la famiglia c'è tutto il bilanciamento di una cosa che è abbastanza pesante dico anche da gestire che non è solo lavoro no lavoro vita privata due figli due cani due case esatto allora beh allora fondamentalmente credo che uno delle delle caratteristiche che poi mi conosci che fanno parte di me è l'equilibrio no imparato anche nei vari avvenimenti no che mi sono successi nella vita e quindi per me è fondamentale l'equilibrio comunque in tutto quello che faccio i miei figli comunque li ho sempre abituati a viaggiare da piccolini da piccolissimi cioè la grande adesso che ha ormai 14 anni a 45 a 45 giorni scusami era Londra a tre mesi era in Brasile ovunque ovunque nel mondo si addormentava ovunque e ancora adesso devo dire che anche l'altro cioè loro si addormentano senza difficoltà fanno voli di 15 ore senza problemi ma addirittura abbiamo fatto il giro del mondo per cui una volta abbiamo volato da Chicago a Shanghai per cui cioè una devastazione ed erano piccoli Arianna avrà avuto 6 anni e Silvio 5 una cosa del genere o poco più insomma per cui loro sono sempre stati abituati a è tutto normale è tutto lo devo fare lo faccio quel discorso un po' anche della PNL del concetto del dialogo interiore ecco un'altra cosa che per esempio io non ho non ho dialogo interno cioè se c'è una cosa da fare la si fa magari decido prima la la strada la strategia l'obiettivo in base però mi ascolto tanto all'intuito in base all'intuito che poi è cresciuto molto sarà l'età non lo so quindi devo dire che col tempo è cresciuto ancora di più e e quindi oddio mi sono perso un attimo cosa stavo dicendo no del dialogo interno ecco e quindi se c'è una cosa da fare la si fa cioè è inutile che mi faccio mille opzioni mille opinioni cammin facendo capirò se la strada giusta o meno e la cambierò al massimo e soprattutto una cosa che ho imparato negli ultimi mesi è che non sempre non sempre è importante prendere una decisione perché è importante prendere una decisione sì ma quando tutti i pezzettini del puzzle sono inseriti che si chiama decisione informata quando ho tutte le informazioni necessarie per prendere quella decisione allora la posso prendere perché in quel caso passo da quei momenti ti dicevo Kensho che sono quelli dove l'universo te lo fa capire o te lo fa capire a quello dove creo le sincronicità quelle dove le cose le faccio accadere senza dolore che sono i momenti di intuizione che sono quelli che dici caspita ero proprio nel momento giusto al posto giusto in realtà non è proprio così fortuita la cosa sono al momento giusto al posto giusto perché ho saputo leggere la strada ecco che cosa serve la decisione informata quello che noi chiamiamo il caso in realtà per te c'è un significato dietro a quell'evento cioè non è il caso non è il caso non è il caso il caso lo puoi chiamare così magari lo chiamano così le persone che magari non non sanno leggere queste cose però in realtà c'è tutto un filo conduttore che io sono positiva e dico sempre tutto porta al bene ok quindi tutto conduce al bene e che non è un caso assolutamente non è un caso è interessante il modo di cui leggi le cose le vedi con un occhio proprio totalmente diverso non lo so se sono vere o non sono vere però ti dico che questo tipo di intuizione mi ha sempre portato a non fare casini ad averli magari sì ma poi avere la strategia per superarli grossi e piccoli e questo mi dà tanta serenità tanta qualsiasi cosa accada mi dà tanta serenità questo non è scontato però l'ho visto a vedere in persone che hanno comunque un rapporto dove hanno uno stile di vita chiaramente molto alto guadagnano chiaramente cifre importanti cioè quindi nelle persone ricche non tutte però ho visto un'evoluzione perché come dice una persona un mentore molto importante dice che il generale alla fine ti amplifica certo amplifica chi sei quindi non cambia che te oggi guadagni x o y cioè quello è un esponenziale diciamo sui tuoi valori quindi alla fine se hai quei valori lì li vedi che te sei a un milione l'anno o a 20.000 l'anno cioè non cambia niente ecco l'importante secondo me è se hai perso quei valori ritornare a trovarteli cioè rifare un po' il viaggio ripercorrere quel viaggio no e valori di stabilità valori importanti che comunque ti creano quelle famose onde coerenti che ti portano poi a risultati importanti risultati impattanti perché magari ci arrivi uguale però quanta fatica ci metti ad arrivarci e soprattutto se ci metti così tanta fatica per arrivare lì pensa invece dove saresti arrivato con una con un'altra scioltezza è vero è vero perché è il compounding effect no? esatto e che rapporto diciamo hai con questi argomenti rispetto ai tuoi figli per esempio quindi ne parli con loro o sono cose che per il momento ogni tanto se mi capita soprattutto nelle cioè non puoi parlargli così perché ti prendono per mamma vieni da un altro pianeta oggettivamente no? sì però per esempio mio figlio Silvio ogni tanto mi dice mamma ma te che sei così universale universale mi dice non new age universale che poi non mi sento neanche new age perché secondo me sono proprio scientificità capito? cioè io mi trovo tanto nella fisica quantistica perché secondo me sono leggi fisiche sono vere queste cose capito? e e quindi lei mi dice te che sei così universale me la spieghi questa cosa e allora cerchi di farli riflettere da un altro punto di vista che è quello non del problema stesso ma sali più su sali su un livello dove il problema non c'è dove tu sei più grande del problema perché se arriva una tormenta qualsiasi ci possa essere nella vita bisogna essere più grandi della tormenta più stabili della tormenta con quelle onde emozionali e mentali equilibrate e coerenti e lo trovi non dove c'è il problema stesso ma lo trovi come dice Einstein al livello sopra il problema stai diventando più grande e dove non c'è ancora il problema allora lì puoi creare per il concetto comunque della fisica quantistica infinite possibilità di soluzione e ci sono delle abitudini che ti aiutano a mantenere comunque un equilibrio o comunque questo tuo atteggiamento no? allora prima erano delle abitudini poi sono diventate non posso dire stile di vita parte di me quindi prima magari le abitudini erano un po' come la legge di Robin Sharma 20 minuti esercizio 20 minuti meditazione 20 minuti leggo imparo studio eccetera quindi all'inizio magari ti metti lì a fare queste cose perché diventi un'abitudine ma dopo se tu se queste cose poi vedi che funzionano allora non è più un'abitudine diventa parte di te come andare in palestra ok? o semplicemente come mangiarti un gelato o semplicemente quando c'è qualche cosa che non va e allora dici va bene fermati un attimo rimetti le radici in chi sei e che cosa vuoi e chi vuoi essere e che sei ok? e come lo risolviamo? dove andiamo? ho tutte le informazioni mi serve qualcosa? bene allora posso questo almeno è il mio concetto ripeto ok posso prendere la decisione oggi o è meglio aspettare ancora di avere tutti i pezzettini del puzzle perché su tutti i pezzettini del puzzle allora poi la decisione fa meno male capito? è chiaro hai sì sì sto cercando di allinearmi anche molto a quello perché lo sento molto forte capito? come concetto come concetto mi ricordo una volta che hai messo una storia su Instagram dove eri rientrata forse da un viaggio e parlavi anche di diciamo Milano che energia che hai no? ok io un po' la sento no? però voglio sentire anche il tuo punto di vista no? quindi comunque hai scelto di stare a Milano di vivere a Milano di goderti un po' nonostante comunque viaggi comunque il mondo praticamente certo cioè che cosa che senti qua? allora l'andare è la mia parte intuitiva la mia parte curiosa è la mia parte sbarazzina quindi vado faccio disfo mi piace ma io guarda ti dico che mi ricordo ancora un viaggio che ho fatto perché a un certo punto della mia parte imprenditoriale della mia vita imprenditoriale avevo deciso di continuare a portare le cornici di mio papà all'estero quindi sono partita per gli Stati Uniti e avevo 34 anni 35 anni e così volendo trovare praticamente dei punti dove poter esporre queste cornici no? bellissime perché erano veramente erano diciamo il top della gamma nostra che erano quelle tutte dorate con la foglia d'oro intagliate a mano quindi bellissime e quindi mi ricordo che mi sono noleggiata la macchina e ho fatto Los Angeles San Francisco da sola in un giorno spaventatissima a un certo punto perché avevo la macchina che non lo so ma ci ha messo tipo 18 ore una cosa del genere e mi ricordo che ero spaventatissima perché sai che negli Stati Uniti non ci sono i posti come qua dove esci fai gasolio o comunque benzina cioè ce li hai uno sporadico di qua sporadico nell'autogrill che hai no e quindi mi ricordo insomma questa cosa che mi aveva un po' la palpitazione però poi sono sempre stata fortunata e quindi ti stavo per le sincronicità chiaramente non per la fortuna quindi diciamo che quando viaggino c'è l'energia che tu dici che sento qua e qua invece bravissimo che mi hai riportato qua è casa qua è rigenerazione qua è l'amore qua è l'amicizia la bellezza la serenità la capito le cose la famiglia anche di origine perché comunque sono 20 minuti insomma tra Milano e Carono per Tusella quindi Milano è casa per me invece quando vado ritorno un po' adolescente quando viaggio quindi alla riscoperta no di l'isola che non c'è invece diciamo il tuo rapporto con il denaro com'è? molto equilibrato il mio rapporto col denaro non che non spendo perché spendo però equilibrato perché cioè so che qualsiasi cosa succeda sono in grado di farlo di farlo anche da sola con giustamente ripeto nel tempo anche ho creato un cuscinetto comunque a reddito quindi come ti dicevo insomma degli immobili a reddito e soprattutto la cosa bella del denaro che mi piace è che posso fare creare emozioni per me per le persone a cui voglio bene quindi è un po' la parte non so come dirti emozionale ma perché probabilmente io sono così la parte emozionale del denaro però equilibrato perché non ho paura di non poterlo fare anche se domani succede qualcosa che rimango senza soldi venendo anche dalle radici di una famiglia che si è sempre tirata sulle maniche del dopoguerra e ha creato e io ce l'ho nel DNA il fatto di creare e poi va bene dovrò andare a fare la cameriera va bene ricomincerò da lì però non ho questa cosa del sono arrivata perché ricordiamoci che non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo non ho mai fatto fatica nella mia vita nel senso di non avere denaro perché comunque mia famiglia è sempre stata appunto ti dicevo comunque una famiglia benestante però mio papà in questa cosa e mia mamma sono riusciti a farmelo passare c'è l'importanza del valore dei soldi quindi oggi posso farlo spendo domani non posso farlo non mi strappo i capelli ricomincerò da zero succede qualcosa benissimo ma a tutta la mia famiglia se dovesse succedere qualcosa dall'oggi al domani che poi è importante comunque crearsi dei cuscinetti quello prescindere però non è un tema per me andremo a vivere sotto una capanna è interessante e tu credi che il denaro ti abbia reso più felice? allora il denaro mi ha sicuramente reso più felice non perché il denaro rende felice ok ma perché probabilmente puoi occuparti di altre cose rispetto allo stato di sopravvivenza ok quindi sicuramente puoi creare emozioni per te che magari non saresti riuscita a creare però in realtà io credo che la felicità sia una decisione non sia una questione di denaro sia semplicemente una decisione come una decisione essere infelici è quello sì è vero perché nel momento in cui hai soldi non ti preoccupi più del devo fare le cose per produrli cioè li faccio perché voglio impattare voglio è un altro livello di consapevolezza il denaro è energia come tutte le cose come tutte le cose quindi se tu sei in un stato coerente ne crei di più se sei in uno stato non coerente ne crei di meno poi magari sei arrivato comunque ad averne tante ma il concetto è ma se fossi stato in un altro stato quanto ne avrei creato di più dove sarei riuscito ad andare di più quante persone avrei potuto aiutare di più se non mi fossi occupato delle stronzate delle cagate dell'essere nello stato di sopravvivenza magari con milioni di euro ma sei sempre nello stato di sopravvivenza fa pensare pensiamoci pensiamoci è vero è vero sei arrivato fin qua è perché fai parte di quegli imprenditori che vogliono costantemente migliorarsi questo è il motivo per il quale abbiamo creato la super fatturato box la box dedicata agli imprenditori che vogliono far crescere la propria azienda quali sono i sogni che hai diciamo che dici ho qualche sogno qualche progetto qualche cosa che stai portando avanti o sai delle ambizioni magari immagino perché ne hai parlato fino adesso e sicuramente allora devo dirti che in questo momento grossi progetti da stravolgere la mia vita non ne ho li ho avuti però sono in un momento dove amo vivere il presente e nel presente creare e quindi non so dove mi porterà questo creare tu ci credi? ci credo quindi non ho un obiettivo cioè sì lavoro faccio le mie cose ho diverse attività quindi sicuramente sono ambiziosa per arrivare comunque a superare ogni giorno me stessa ok però la sfida non è con gli altri la sfida è con me non posso neanche parlare di sfida ma è proprio di crescita e cioè è stato un game changer per me gli ultimi tre anni da quando ho iniziato un po' questo percorso quindi non è tanto voglio arrivare lì voglio fare voglio disfare no voglio vivere il presente nel presente creare e questa cosa so che mi porterà nella direzione giusta e ho questa questa coerenza mente e emozioni e corpo che comunque ci saranno tante cose belle che farò tante cose belle per me e per gli altri magari sempre nei miei campi eccetera però so che cresceranno queste cose senza mettere devo dire strano pienelisticamente molto strano perché un desiderio lo trasformi in obiettivo e io mi voglio invece godere i miei desideri bello mi piace è molto spirituale mi piace questo tuo e poi chiaramente le cose le fai attenzione non è che le cose succedono solo se le desideri attenzione non voglio che passi questo questo concetto perché le cose si fanno se ti fai il mazzo se no non funziona niente però il concetto del tolgo l'ansia faccio le cose perché mi piace farle e non faccio le cose che invece mi portano in una direzione che non non è impattante per me per gli altri capito perché poi da lì passo a quello che è la produttività invece che è sempre la sopravvivenza capito esatto hai parlato degli ultimi tre anni c'è stato un evento per cui hai iniziato a fare delle robe diverse ma no semplicemente probabilmente persone conosciute perché quando sei pronto il maestro arriva che mi hanno mi hanno portato qua quindi ho iniziato a leggere un po' di cose ho iniziato a sperimentarle e avvenimenti magari successi nella mia vita dove sono riuscita a farli diventare probabilmente la miglior fortuna della mia vita bello una cosa che ti volevo chiedere che non ti ho chiesto prima sul rapporto del denaro sì e come tu lo gestisci invece in relazione ai tuoi figli cioè i tuoi figli comunque ti vedono è un casino è un casino perché ripeto vorrei che passasse questo valore così importante del il denaro va rispettato con comunque il fatto di non avere limiti perché è importante anche il concetto di cioè non voglio passare che loro abbiano i limiti però che facciano il passo in base a comunque alla gamba perché comunque insomma viaggiano in business e hanno 14 anni e 13 anni hanno bisogno qualcosa ce l'hanno però quello che è veramente difficile da mamma vi dico credo anche da papà sia quello di dare il senso del tempo dare il senso del voglio una cosa me la conquisto cosa che noi invece avevamo no? perché comunque anche se anch'io da ragazzina non avevo problemi economici però passava questa cosa cioè noi non andavamo sempre fuori a mangiare c'era la pizza del sabato sera anche se potevamo andare il martedì non ci mancavano i soldi per andare il martedì il venerdì il giovedì o sabato o anche tutta la settimana ma si fa qualcosa insieme un giorno quindi aspetti mi piacerebbe cioè io comunque avevo ero una paninana ad adolescente avevo avevo la mia borsetta avevo la mia giacchetta avevo insomma le scarpe tutto però era ok la prendiamo una alla volta ma come te la conquisti tu questa cosa ok quindi magari io mi ricordo che comunque 14 anni 15 anni dopo la scuola magari due orette in fabbrichetta le facevo e poi non mi dava i soldi mio papà però mi diceva bene ti sei conquistata il tuo regalo che non era cattiveria ma era proprio facciamo una cosa ce la possiamo permettere ma tu ti devi impegnare in questa cosa e con i miei figli faccio fatica perché purtroppo sono comunque in una società dove anche tutte le persone che le circondano e hanno tutto hanno tutto e poi quella è la cosa più difficile cioè equilibrare quella cosa lì perché te magari gli porti anche l'insegnamento poi vanno fuori però quello che cerchiamo di passarli soprattutto nei viaggi è che ci può stare l'albergo a 5 stelle ci può stare il volo magari appunto in business o in first però possiamo anche fare il volo in economy e possiamo anche e lo facciamo a volte e possiamo anche stare in un albergo decoroso senza per forza essere a 5 stelle lusso ok proprio più che altro come insegnamento per dire c'è questo e c'è anche l'altro ed entrambi sono decorosi comunque poi ce lo possiamo permettere lo facciamo perfetto però non è uno show off è perché c'è dietro del lavoro importante sia da parte di mamma e papà è un autogodimento non è tanto per dimostrare qualcun altro quanto in realtà proprio perché lo vogliamo come esperienza però se capita quel concetto che io lo sento davvero se dovesse succedere qualcosa domani ci tiriamo sulle maniche non succede niente io sono la Sara che è nata nella fabbrichetta io sono la Sara che ha fatto fatica a studiare comunque che faceva il serale per aiutare la mia famiglia non dal punto di vista economico ma dal punto di vista emotivo per me era e quindi quello voglio che passi voglio che passi ai miei figli ok domani succede che non abbiamo più soldi perché c'è un terremoto butta giù tutto perfetto non succede niente siamo comunque noi perché io credo che il valore più grande per cui veramente possiamo fare più soldi possiamo fare più esperienze possiamo ottenere risultati più grandi e siamo noi se manca al noi manca tutto perché non c'è più il resto perché è una delle cose diciamo che cioè io parlo con tante persone che guadagnano tanti soldi molti 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 più rispetto a quelli che posso fare io o anche noi magari esatto e tutti dicono che comunque la paura più grande è il perdere cioè il tornare al dovero magari prima c'è magari gente che è partita dal zero magari è il milionario di prima generazione della famiglia eccetera quando arrivano a guadagnare tanto poi tutti hanno la consapevolezza che magari continuano a fare continuano a stare sul pezzo continuano a creare per la paura di tornare a quello stato e io non ce l'ho questa cosa infatti mi stai parlando di una roba quasi non dico posta però io non ce l'ho la paura di perdere tutto perché so che se perdo tutto domani ho qualcosa veramente importante che è me stessa tutto il mio percorso che mi ha portato qua quindi magari farò fatica e magari farò che non lo so non so quanti soldi di più di meno non lo so però so che posso contare su di me e posso contare sulle relazioni profonde che ho creato vere sincere coerenti e questo secondo me sono e la bc sono le basi sono le basi se dovessi lasciare un messaggio a una persona che magari guarda questo contenuto e quindi una cosa importante che potrebbe essere stata una lezione per te impattante un discorso significativo per lasciare un messaggio importante che cosa gli diresti? di credere sempre di avere tanta fede tanta fede che non è quella religiosa ma è la fede che tutto concorre al bene però se si è davvero disposti di farsi il mazzo interiormente ed esteriormente perché alla fine le cose accadono e belle anche anche se si esce da momenti difficili però bisogna essere umili per ricominciare qualsiasi magari non economicamente emozionalmente o viceversa e soprattutto ricordatevi davvero io ho fatto di questa cosa uno dei miei motti fondamentali che è controlla l'ego e il tuo potere crescerà bello quello poi non lo so però ci credo tanto grazie è stata una puntata fondamentalmente mentale diversa infatti mi piace è stato bello anche questo è molto formativo quindi ringraziamo Sara per essere stata qui con noi grazie grazie a te per l'invito è stato un piacere è stato bellissimo grazie a tutti speriamo di essere arrivati un pochino magari a qualcuno che con queste parole con questa intervista possa trovare quel pezzettino per la sua decisione informata in più potete trovare tutte le informazioni sui profili social di Sara quindi per chi è interessato a questi argomenti potete seguirla e noi ci vediamo in una nuova puntata ciao ciao